Post Totti Wisi Lazio con mister Carlo Cancellieri. Mister, la sua è una squadra che non muore perché è in svantaggio con più gol e riuscita a recuperarli tutti col brivido alla fine. Oggi devo fare il completto ai ragazzi che hanno fatto la partita di cuore. Loro siamo andati sotto 3-0. Francesco è rientrato dopo due mesi, quindi con una situazione di temperatura molto fredda. Ha fatto comunque una grandissima prestazione. È cresciuto nella seconda parte della partita e quindi questo è un bel segnale perché Attinga è un campione ancora e quindi ancora ha fatto delle giocate pazzesche. Ria aperto la partita lui sul 3-0, 3-1 e poi la squadra tutta con Silvani, con Solio che ci regala queste pelle. Mi lo faccio scendere un attimo, mi manda a fanculo, poi rientra e fa la differenza. Va bene così, io non sono per maloso se lo gioca così, basta che fa la differenza. Se questo è il prezzo da pagare lo paga volentieri, dice. È mancato tanto però Moscardelli in avanti, abbiamo avuto l'impressione guardando la partita da fuori che spesso tanti palloni in avanti non avessero un fine, cioè non c'era un terminale di fisico di peso. Esatto, Bruno Moscardelli è molto importante soprattutto perché ci dà la possibilità di inserire Mezzale. Tabarini ci ha portato a mettere dentro, non si sblocca Tabarini, è andato vicino al gol, ha fatto una grande giocata. Dierono siamo stati un po' leggeri oggi, ci è mancato Nardi all'ultimo momento, Nardi è importante perché ci dà equilibrio. Giura è entrato un po' timido, però poi ha fatto una grande partita anche lui. Secondo me la squadra è andata bene, soprattutto per il fatto che siamo ancora imbattuti e questo è positivo. E poi abbiamo una società che adesso deve fare i regali, perché sono forti, oggi è stato sempre bravo, non riuscire in tempo. Aveva una scena elettorale penso, però penso che oggi un premio alla squadra se la merita è quello che ha fatto anche per l'atteggiamento del gruppo e tutto. Un altro giocatore che si è fatto poi valere a sostituire Nardi proprio dietro è stato Escudero, no? Escudero dopo ha fatto una grandissima prestazione, è stato intelligente a mettersi dietro perché abbiamo visto che non difendevamo bene. Abbiamo andato il primo tempo a loro e poi abbiamo giocato molto meglio noi, l'abbiamo schiacciato un po', sono anche abbassati loro. Però secondo me è quello che conto lo spiego di questa squadra, è una squadra che ha cuore, una squadra che riesce a mantenere la posizione a davanti. Speriamo che anche le altre rallentano perché ci sono squadre fortissime, l'Aurentino che ci sta appuntando, il mister Ranieri Ferretti ne sono più del diavolo, quindi lo stanno in campana. Poi c'è stata Roma che ci sta attaccata, la San Paolo che si sta riprendendo ma è un po' lontana per fortuna e che ci abbiamo perso con loro. Quindi ci abbiamo queste squadre che chiunque ci affronta a noi purtroppo arriva con i mezzi al massimo. Speriamo che la prossima partita con il Campus Euro, il mio amico, il direttore sportivo, altrimenti Canterini non faccia lo spiritoso che venga con troppi giocatori perché sennò è dura per noi. Però noi ce la difendiamo fino alla fine. Proviamo a questo sogno di portare la Totti in classifica, in vetta. Ci proviamo dai. E oggi diciamo che se c'erano con Scardelli forse la vincevamo.